Gli stranieri, ahimè, dolci ricordi di un tempo nel bene e nel male. Approdarono a Genova per la gioia dei tifosi, arrivarono da paesi lontani, alcuni grandi campioni, molti altri, carnieri della pedata, con passaporti fasulli e parrucchini, per nascondere gli anta e la calvizia. Nacquero i miti, Verdeal, Abadì, Scoglund, Cucchiaroni, Firmani e tante fregature. Melberg, Tapper, Taioli, Nilsen, Veselinovic, Mirkoli. Ma il ricordo è ancora acceso nei cuori dei tifosi genovesi e se un altro anno ci sarà la riapertura agli stranieri, giungeranno dal mare come allora e i loro goals, i nostri cuori, faranno palpitar ancora. Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembreranno. Vengo dal caldo dell'estate per cercare gloria di pedate, per far notizia sui giornali. ho navigato a viso aperto e qualche volta ho anche sofferto, senza però piangere mai. se la Sampdoria mi vorrà, se il genoa pure mi vorrà, c'è chi non lo deludea. con questa pelle un po' abbronzata, spero in un letto, una frittata ed una donna innamorata. Con queste mani e sti piedoni speriamo di far tanti visioni, se il nostro manager forrà. e questa vita cambierà in una nuova società, che pensi alla Serie A, che punti alla Serie A, che resti sempre in Serie A, che vincano tutto in Serie A. con la gara di mettec, di giù ferranti, di pattere grecchi, e le mie cheveuse au quattro vento. .... ... ... ... ... se captive, mon âme sort, ma source vive, je viendrai boire tes vintans, et je serai prince de 100 rêveurs, ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir, et nous ferons de chaque jour, toute une éternité d'amour, que nous vivrons en mourir. Nous allons faire de 10 ou 15 000 rêveurs, nous allons commencer mal. Nous allons plus jouer. Nous allons jouer. C'est parti. C'est parti. Tira! 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 Bravo! 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 Qu'est-ce que tu fais? Tu dois parler! Tu dois parler! Tu dois parler! Tu dois parler! Avec ma gueule de mes tecs, de juiféron, de patre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux toutes de laver, qui me donne l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent... Qu'est-ce que nous préférons? Tres choses! Money! Et la seconde? Money! Money! Money, la première chose. Comme dans la matinée, nous nous disons que nous avons besoin de... Money! Money? Oui, une bonne femme. Ah! Tu vois? Sleep bien! Et mange bien! Oh! Tu dois parler! Ti piace? Ah, si! Si, si! Te l'ho portata apposta! Hahaha! Loro, qualunque squadra, non è problema, loro riporteranno senz'altro genere Sandoria in Serie A. Io e Giovanna. Ah! E tu? Perché squadra sei tifoso? S-Sandoria. Con questa faccia da straniero, sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Vengo dal caldo dell'estate, per cercare gloria di pedate, per far notizia sui giornali. Ho navigato il viso aperto, e qualche volta ho anche sofferto, senza però piangere mai. Se la Sardoria mi vorrà, se il Genoa pure mi vorrà, c'è chi non lo deluderà. Con questa pelle un po' abbronzata, spero in un letto, una frittata ed una donna innamorata. con queste mani e sti piedoni, speriamo di far tanti milioni, se il nostro manager vorrà. E questa vita cambierà, in una nuova società, che punti alla Serie A, che punti proprio in Serie A, che resti sempre in Serie A, che vinca tutto in Serie A. Con queste mani e sti piedoni, speriamo di far tanti milioni, se il nostro manager vorrà. E questa vita cambierà, in una nuova società, che punti alla Serie A. che pensi solo alla Serie A, che resti sempre in Serie A, che vinca tutto in Serie A. E questa vita cambierà, e tutto quanto cambierà, in questa nuova società. E quanti soldi si farà, chi sopra ci speculerà. Perchè? 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 Perchè?